Il fenomeno migratorio investe il nostro Paese sin dagli ultimi anni del Settecento e interessa prevalentemente le regioni del settentrione d'Italia. Solo dopo l'unità si allarga anche al meridione. I migranti partono per cercare fortuna oltreoceano, per provare a migliorare le proprie condizioni economiche e quelle delle famiglie che sono costretti a salutare. La speranza è quella di tornare un giorno e farlo da gran signori. Le madri vedono partire i propri figli chiedendosi se mai li rivedranno. Pregano, pregano per loro affinché il lunghissimo viaggio che li attende non li segni in modo indelebile nel corpo e nello spirito. Si mostrano fiere e fiduciose, ma il cuore implode, mentre le mani operose riempiono la famosa valigia di cartone di sapori di casa, nel tentativo di accorciare le distanze con l'altra parte del mondo. Il rapporto tra Napoli, capitale del Regno, e i nascenti Stati Uniti d'America è però precedente e ben radicato. Il 16 dicembre 1796, quindi quasi cento anni prima della nascita del Regno d'Italia, fu inaugurata la prima sede di rappresentanza dei giovanissimi United States of America, proprio a Napoli, in via Chiatamone, ed ebbe come primo console il signor Mettier. L'inviato del Regno in America fu il nobiluomo Ferdinando Lucchesi Palli, che ebbe il compito di stabilire una rete di uffici, consolari chiaramente, e il principale dei quali fu poi stabilito a New York. Ma un'altra delle tante tracce di questo fruttuoso dialogo è ancora oggi facilmente riconoscibile nella stessa dichiarazione di indipendenza americana. E infatti il filosofo napoletano Gaetano Filangeri, 1753-1788, nella sua opera Scienza della legislazione, a teorizzare per primo il diritto alla felicità, inteso ovviamente non come stato d'animo personale, ma come la realizzazione di un governo giusto, in grado di assicurare ad ogni cittadino la sua quota di benessere. Ora, questo nuovo modo di pensare il futuro influenzerà profondamente anche i padri costituenti degli Stati Uniti, tra cui Benjamin Franklin.